Un saluto a tutti da Redaktion, di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di cominciare, come sempre, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciolarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi di testo oppure anche messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp. Ma iniziamo subito con la prima notizia. parlando della deposizione della corona d'allora avvenuta giovedì mattina a Montecchio in memoria delle 4 novembre. Alla cerimonia, svoltosi alle monumento dei caduti nei piazzi della Repubblica e accompagnata dall'orchestra incontro dell'Istituto Pian del Bruscolo, erano presenti diverse autorità locali. Vediamo il servizio. Il futuro non esiste se non abbiamo un ricordo, non abbiamo una forma di collegamento con il passato. Noi abbiamo sostenuto da circa cent'anni, perché è dal 1923 che è stata fondata l'associazione, ufficialmente fondata, in quanto i soldati, rientrando a piedi dal fronte del Carso, nel Friuli o nel Trentino, erano, oltre che non si sapeva i vivi e i morti, erano in ritardo non di settimane, di mesi, qualcuno anche di anni, perché o non si orientava o perché si fermava, ho avuto tanti problemi anche fisici di ritardo. Ecco, questa giornata non la dobbiamo dimenticare, perché da questo momento è partita la liberazione dell'Italia dagli oppressori, prima dagli oppressori, diciamo, gli invasori austriaci, poi dagli oppressori che sono stati il periodo fascista, il periodo di Mussolini, il periodo anche peggiore, dove non si poteva combattere, dove i nemici non li avevi di fronte, ma li dovevi temere perché potevano essere da tutte le parti. È stato un momento di celebrazione significativo, il gruppo di musicisti della Scuola Media di Pian del Bruscolo si è esibito Collino d'Italia e Collino alla Gioia e spero che davvero in tutti i ragazzi presenti oggi rimanga anche il vero significato di questa giornata, sono intervenuti i rappresentanti infatti dei reduci combattenti, è intervenuto il sindaco di Vallefoglia, Palmerucchielli e mi ha fatto enormemente piacere essere qui. Questa non è una cittadina qualunque per me, ma è proprio la città in cui sono cresciuta e ho frequentato la Scuola Media di Pian del Bruscolo e mi auguro che tutte le nuove generazioni possano capire fino in fondo e continuare a trasmettere i valori della pace, i nostri reduci e ciò che hanno fatto tutti i militari in guerra devono essere ricordati. Dobbiamo continuare a trasmettere un messaggio di pace, a far capire cosa significa vivere in una zona di pace come quella che abbiamo ed è quindi importante far capire cos'è il 4 novembre. Un momento sempre particolare dedicato in memoria di chi non c'è più. Quest'anno abbiamo scelto la piazza di Montecchio, piazza della Repubblica, rispetto agli altri anni che abbiamo deposto e verranno comunque deposte le corone d'oro a Sant'Angelo col bordo e ci sono i monumenti che ricordano i caduti in tutte le guerre. E si terrà domenica il proseguo della manifestazione anche con una cerimonia religiosa e quest'anno abbiamo voluto insieme alle scuole di Pian del Bruscolo perché, come dice il messaggio di un libro che abbiamo stampato con lo scopo di Montecchio, mai più guerre. Diciamo che è una giornata importante per la coesione nazionale, per il ruolo dell'Italia nella coesione europea ed internazionale e quindi salvare il pianeta vuol dire anche dire no a tutte le guerre. Sono stati milioni di morti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, ancora portiamo le ferite. Qui a fianco abbiamo un monumento con 30 morti per lo scoppio di Montecchio che è vicino al cimitero degli inglesi, canadesi e africani di centinaia e centinaia di morti. Quindi è un insegnare anche alle nuove generazioni che bisogna convivere, bisogna cooperare, bisogna evitare, anzi bisogna porre fine a tutti i conflitti nel mondo. E passiamo ora invece ad una notizia di cronaca che riguarda un imprenditore di Vallefoglia, Augusto Bezziccheri, che è stato accusato in settimana di aver evaso 4 milioni di euro di IVA. Il titolare dell'azienda Isofoam, leader nella produzione di pannelli isolanti termici, è andato a processo per numerosi reati fiscali. Nella giornata di mercoledì, il Lepiem ha chiesto per lui tre anni di reclusione, oltre alla confisca di diversi suoi beni. Alla prossima udienza, il Legipe deciderà se Bezziccheri, finito a processo per i leciti anche nelle 2012, verrà condannato o meno. E torniamo ora a parlare del tema della sanità, visto che da novembre le guardie mediche di Vallefoglia e di Gabice chiuderanno per accorparsi a Pesaro. La causa di questa decisione sarebbe l'assenza di medici, che da 28 il numero necessario se ne sarebbero solamente 5. A rispondere a tale problematica sono intervenuti i sindaci dei due comuni coinvolti. Ci è stata segnalata dall'Aso questa problematicità che si percuote un po' su tutta la provincia, in particolar modo sul nostro distretto di Gabice-Gradara e anche sul Montecchio. Il problema di fondo è la mancanza di medici. Da quello che ci dicono, ci sono oggi disponibili 5 medici su una richiesta di 28, quindi riuscire ad assicurare i turni di guardia medica con 5 soli medici diventa complesso. Quindi mi auspico che sicuramente possiamo essere sentiti noi sindaci che potremmo subire delle conseguenze da parte delle autorità sanitarie competenti. Quindi di conseguenza mi auguro per il mese di ottobre si è riuscito a tamponare in qualche modo perché è stato garantito il servizio di guardia medica in tutti i weekend e festivi con la presenza di guardia medica sul territorio di Gabice. Oggi invece abbiamo la necessità, in caso di necessità di chiamare la guardia medica, di fare un numero di pesaro e poi la guardia medica arriverebbe su Gabice o su Gradara. Quindi ci auguriamo che possa essere risolto, però penso che lì c'è un problema più importante di carenza di medici che sono disponibili a fare il servizio di guardia medica. Voi per tante scelte a livello nazionale e regionale che si ripercuotano poi anche sul territorio. Faccio l'esempio molto pratico, ne parlavo con la dottoressa Esposto, ed è stato un ottimo risultato, sono state raddoppiate le specialità in medicina, questo si ripercuote sul numero di persone disponibili, studenti, laureandi o comunque specializzandi che vogliono fare il servizio di guardia medica. Quindi oggi non c'è medici che possano fare questo servizio, è stato chiesto la disponibilità anche ad altri medici, sia di Fano e Urbino, a poter coprire questi turni, ci auspichiamo che il servizio comunque venga garantito. Poi se c'è un problema legato a questo periodo ben venga, però sollecitiamo tutte le autorità sanitarie, regionali e nazionali affinché possano essere risolte queste problematiche. Io ho scritto di nuovo una lettera all'assessore regionale per dire che quella a causa della salute va irrobustita, rafforzata, del resto tutti i soldi che il Parlamento e l'Europa mette a disposizione per potenziare i servizi territoriali. Ovviamente è chiaro che anche la guardia medica in H24 va rafforzata e quindi Gabiccia Gradara, Pesaro e Vallefoglia sono tutti cittadini di serie A e quindi capisco bene che ci sono dei problemi, ma quando non ci sono dei problemi vuol dire che non siamo più su questa terra e chi è deputato a risolvere i problemi bisogna che li risolva. In questo caso la regione Marche, quella è la struttura della regione, l'assessore regionale io l'ho invitato anche a far visita a questa bellissima struttura che non solo deve avere in H24 la guardia medica ma va rafforzata con la medicina sportiva, la medicina del lavoro, le politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè tutto quello che un territorio ha bisogno di avere per evitare una mobilità o verso l'Emilia Romagna o comunque si devono spostare fare quasi 20 chilometri a Pesaro Urbino. E ora parliamo di una buona notizia perché una cittadina di Vallefoglia, Elisa Clini, questa settimana ha compiuto 108 anni. Nella sua lunga vita si è sposata, ha avuto tre figli, ha lavorato la terra in un piccolo appezzamento e ha fatto la sarta, superando numerose difficoltà come le due guerre, la carestia e quest'ultima epidemia. Elisa, nata ad Urbino nelle 1913, vive a bottega dalle 1968 e proprio in quella casa si è recato anche in questi giorni il sindaco di Vallefoglia Palmirucchielli che le ha portato l'abbraccio di tutta la comunità per questo importante traguardo. E spostiamoci ora a Montelabate perché proprio in questi giorni è stata inaugurata in Via Branca nei pressi del campo sportivo una nuova area fitness con numerosi attrezzi messi a disposizione dei cittadini. In merito alla recente struttura realizzata e all'importanza dell'attività fisica per i giovani, ma non solo, ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Montelabate, Cinzia Ferri. Nuova area fitness che sorge qui a Montelabate in Via Branca vicino al campo sportivo. Ecco, da dove è nata questa esigenza della realizzazione di questa struttura? Nasce da un'idea del vecchio assessore allo sport che era molto attento alle esigenze sportive e degli sportivi. Sono aree che già in altre realtà esistono anche qui vicino a noi, ma soprattutto principalmente in Acquero e nell'Alta Italia, vicino ai parchi. E anche noi abbiamo voluto dedicare quest'area fitness perché abbiamo visto che ci sono diversi ragazzi che praticano sport all'aperto, soprattutto poi in seguito al lockdown, al coronavirus che comunque ci ha portato a usufruire degli spazi all'aperto per poter eseguire lo sport. E quindi abbiamo voluto realizzare questa prima area. La prima area che si trova a Montelabate, in Via Branca, vicino al campo sportivo, la zona Alexis Gambatoio. Ne stiamo già, nei prossimi giorni, installando un'altra nella frazione di Osteria Nuova, sempre con delle attrezzature di fitness all'aperto. e per non finire, perché proprio siamo straconvinti che il futuro dello sport si svolgerà all'aperto anche inerente allo sport di gruppo, in questi giorni stanno lavorando gli operai per creare un campo da pallavolo e da basket a tre, come quello che si è visto alle Olimpiadi, che nessuno conosceva ma in realtà esiste, nella frazione di Apsella. Cerchiamo di fare questo perché siamo convinti che i giovani devono avere qualcosa da fare e piuttosto che lasciarli nel parco, magari annoiandosi, fumando le sigarette, bevendo la birra e rompendo anche le panchine, magari si dedicano allo sport e anche all'attività fisica che forse è molto più salutare. Quindi un comune sempre più attento all'attività fisica ed è quello che comunque è importante per i giovani, come ha ribadito lei, per il futuro dei giovani soprattutto. Sì, cerchiamo di essere attenti a queste cose, infatti non riuscendo tra l'altro a gestirle noi personalmente le palestre, due o tre mesi fa abbiamo fatto il bando gestione delle palestre proprio per portare vari tipi di sport all'interno del nostro comune. Il bando è stato vinto da un'associazione che ha la gestione delle nostre tre palestre e in queste tre palestre ora si svolgono delle attività che prima magari non c'erano come quello dell'attività sportiva aeronautica, cioè dinamica militare, una roba di questo genere oppure della difesa personale, arrivare alla ginastica ritmica che prima magari non erano presenti sul nostro territorio. Però ripeto, noi siamo convinti che lo sport vada fatto all'aperto, noi l'abbiamo fatto all'aperto noi assessori, io sindaco, quando eravamo giovani non ci chiudevamo mai fuori, anche d'inverno eravamo per strada a giocare col pallone, non si direbbe ma l'ho fatto anch'io e quindi siamo straconvinti che è giusto ripristinare le aree, quelle che sono adesso attualmente non in uso utilizzarle in questo modo. E restiamo sempre a parlare delle territorie di Montelabate ma questa volta ci spostiamo ad Apsella dove per le giornate di sabato 6 e 20 novembre saranno presenti due appuntamenti organizzati dalle comune di Montelabate. L'iniziativa, dalle titolo I sabati della Badia, prevederà delle curiose passeggiate abbinate a letture poetiche e pensieri di templari in memoria. Il punto di ritrovo, alle quale è consigliabile arrivare con una borrazza e una merenda al sacco oltre ad indossare un vestito comodo, sarà al parcheggio della Badia San Tommaso di Apsella alle ore 14 per sabato 6 novembre, mentre per il 20 sarà alle ore 15. E negli ultimi giorni sono stati ufficializzati i bandi sulla sicurezza stradale stanziati dalla regione Marche, che ha assegnato 11 milioni di euro ai comuni per aiutarli a rendere più sicure le strave di loro competenza. Tra i progetti ammessi a questo finanziamento rientra anche il comune di Vallefoglia e il sindaco Palmiero Ucchieglia ha esposto ai nostri microfoni alcuni degli interventi che verranno fatti in futuro. Abbiamo avuto degli incontri con l'assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e abbiamo avuto un primo risultato di circa 350 mila euro, occorrono altri 150 mila euro per completare il tratto della viabilità che va dal casello autostradale al cimitero degli inglesi e canadesi di Montecchio, perché è stato fatto un buon 90%, occorre completare. Poi abbiamo avuto un finanziamento di circa 70 mila euro e noi ringraziamo per la mobilità ciclopedonale e abbiamo naturalmente, oltre che fatto un investimento nostro di circa 200 mila euro per illuminare il tratto di pista ciclopedonale che va dal ponte in legno lì sul fiume Foglia fino a Morciola, illuminazione, rifacimento degli asfalti, sistemazione, maggiore sicurezza. Queste risorse ci servono per fare delle piastole di sosta per le biciclette, per coloro che vanno in bicicletta, delle aree diciamo di una sostenibilità nella mobilità. Stiamo lavorando con l'AMI per riorganizzare tutto il sistema dei trasporti pubblici locali per un maggior utilizzo del mezzo pubblico, maggiore possibilità di andare a piedi e andare in bicicletta e quindi questo investimento va in quella direzione di fare delle aree attressate per il deposito di biciclette, per coloro che vogliono non usare il mezzo privato che inquina e che produce più incidenti e quindi ben vengono investimenti di questo genere. Vogliamo anche ragionare con la regione della mobilità alternativa, che è quella di una metropolitana leggera fuoriterra, su cui abbiamo concordato con la regione di completare lo studio che parte da Pesero, Fano, Fossombrone, Urbino e scende nella vallata del Foglia perché se regge la mobilità alternativa sostenibile a piedi, in bicicletta, su rotaie, e la mobilità delle merci e delle persone vuol dire ridurre notevolmente l'inquinamento, stare dentro la sostenibilità come prevede l'orientamento e le leggi e i finanziamenti europei. E passiamo ora alla pagina sportiva perché nella mattinata di sabato scorso sono state presentate presso la sede delle comune di Sant'Angelo in Lizzola le nuove squadre della Polisportiva Bottega. Da quest'anno però ci sono delle novità. Oltre ai due team di pallavolo di Serie C, uno maschile e uno femminile, la società di Vallefoglia si è tuffata anche nelle campionato di calcio di terza categoria. Vediamo. Ci troviamo oggi a Sant'Angelo in Lizzola per la presentazione della Polisportiva Bottega, ovvero le due squadre di Serie C di pallavolo e la novità della squadra calcistica che si è iscritta al campionato di terza categoria. Da dove è nata l'idea? L'idea è nata da un gruppo di ragazzi tra i quali c'è anche mio figlio che appassionati di calcio hanno chiesto la possibilità di appoggiarsi presso di noi in qualità di Polisportiva per poter comunque fare l'iscrizione e avere una società di supporto. Diciamo che è la possibilità data loro di poter creare questa squadra e di avere un gruppo sul quale comunque stare insieme, fare socialità e quindi convolgere anche delle persone. È chiaro che la nostra attività principale rimane la pallavolo perché non vorremmo far confusione insomma ecco e 50 anni in quest'anno tra l'altro ci sono stati riconosciuti per i 50 anni di attività da parte della federazione e quindi in conseguenza la nostra attività principale è la pallavolo. Il calcio è un diversivo in questo momento perché per questa cosa, per dare la possibilità ai ragazzi di fare attività e di stare insieme in una società sperando che poi magari ci possa andare una mano nella nostra normale attività sportiva. Quali sono le ambizioni di quest'anno? Sono le prime due squadre di Serie C ringiovanite quindi sicuramente ancora un po' inesperte e quindi di conseguenza noi speriamo di vendere cara alla pelle nel nostro campionato e di fare la nostra figura. Le ambizioni in questo momento sono quelle di amalgamare il gruppo perché comunque è di far fare esperienza a questi ragazzi. Oltretutto veniamo da un anno e mezzo di attività quasi parziale se vogliamo dire perché comunque la pandemia purtroppo ci ha messo in grossa difficoltà e quindi questi ragazzi hanno bisogno di fare campo, di stare insieme, di giocare, di conoscerci e quindi lo sforzo principale è questo. Sempre più ragazzi, sempre più appassionati di sport a Vallefoglia. Vallefoglia come sulle attività economiche è una città in forte crescita e in forte movimento anche dal punto di vista delle attività sportive. Abbiamo una quantità di impianti sportivi, di palestre, di campi rilevantissimi per una città di 15.000 abitanti e abbiamo, diciamo, come nel caso di oggi, due squadre femminili e maschili in serie C campionati regionali, una squadra di calcio, una novità altre squadre di calcio che abbiamo perché abbiamo due campi sintetico qua due campi in terra battuta normale e poi, come si vede, abbiamo il campo il gioco delle bocce in serie A, il calcio a 5 in serie A che pesero, ma in verità Ital Service ha la fabbrica a Talacchio e sempre nella pallavolo in serie A. Quindi diciamo che sono tante le discipline sportive e che svolgono un ruolo sociale rilevantissimo centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi che fanno attività fisica fanno sport, competono, sanno stare insieme imparano anche le relazioni sociali e quindi per noi è molto importante. Quest'anno hanno approfittato del fatto di essere una polisportiva per creare anche una terza categoria che giocano sempre a Morciola nell'impianto nuovo e sintetico e quindi un grande in bocca al lupo per la stagione agonistica, sperando che la pandemia ci lascia liberi insomma dal fare queste attività e sto riscontrando insomma una partecipazione negli impianti sportivi, molta prudenza ma anche una felicità nel riassaporare insomma la palestra e l'agonismo e l'attività che loro svolgono. Continuiamo e concludiamo parlando come sempre di sport e lo facciamo iniziando dalla pallavolo. Nelle pomeriggio domenicali infatti la Megabox Vallefoglia è stata ospite dell'Ecunio ma la squadra di coach Buonafede è stata battuta con un secco 3-0 dai padroni di casa. Quattro sconfitte su cinque partite testimoniano un ambientamento complicato alle massimo campionato ma le Tigri nonostante il momentaneo ultimo posto hanno abituato da diverse stagioni di essere tenaci e dure da battere. Nelle calcio, campionato di eccellenza, l'Atletico Gallo ha ottenuto il terzo pareggio di fila per 2-2 questa volta contro la Iesina Calcio. Stesso risultato dunque per tre settimane consecutive. Nelle campionato di promozione è arrivata un'importante vittoria delle case Porto e Montecchio che in casa delle Loreto si è imposto per 2-0. Seconda vittoria consecutiva invece per il Levalfoglia che dalla complicata trasferta di Osimo Stazione è uscito vittorioso per 1-0 salendo alle seconde poste in classifica. Nelle campionato di prima categoria è arrivata una buona prestazione e un ottimo risultato per l'Osteria Nuova che nel match disputato in casa contro il Sant'Orso ha trionfato per 1-0. Pareggio in trasferta invece per l'Atletico Tavuglia che sulle campo delle Tarvenerle è stato fermato per 1-1. E con lo sport si conclude questa nostra nuova edizione delle Vallefoglie e Pian del Bruscolo Magazine. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 12 di novembre e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti i nostri spettatori